Ecco, formichine, la nuova casetta. Cosa avevo detto a voi due? Niente più dolcetti. Io non ho toccato i dolcetti. E perché ci sono briciole sotto al tuo letto? Ce le ha messe Mirana. È vero, Mirana? Sei stata tu, diglielo. Di la verità, Mirana. Hai mangiato i dolcetti e hai buttato lì le briciole? No. Invece sì, bugiarda! Le briciole sono sotto al tuo letto. Non incolpare tua sorella. No, questo non è giusto! Non è giusto! Ma... Ma... Grazie a tutti.